Maria Cernna Revisore, Buongiorno a tutti e grazie. Sono qui a portare l'esperienza di un piccolo territorio, di una scheggia di roccia, che però è posta al centro del Mediterraneo. si chiama Lampedusa, è stesa a 20 km quadrati e ha una popolazione di 5.800 abitanti, però dal 1991 ad oggi ha salvato la vita e ha accolto più di 300.000 persone. Dico che io sono il sindaco di un'isola che sembra piccola ma che in realtà ha fatto qualcosa di così grande perché ci sono 300.000 lampedusani che sono andati in giro per il mondo grazie a questa scheggia, posta al centro del Mediterraneo come isola di transizione tra due continenti. Cosa è avvenuto in questi anni? Si sono chiuse le rotte migratorie che partivano dalla Tunisia e dal Marocco e che portavano in Sicilia soprattutto migranti magrebini. Si è aperto la rotta che attraversa il deserto della Libia, il Sahara e arriva in Libia per affrontare poi il mare ed è questo il popolo in cammino dei paesi del Corno d'Africa, del Sub-Sahara. sono eritrei, somali soprattutto, per vent'anni sono stati soprattutto eritrei e somali. Ora negli ultimi anni si sono aggiunti anche siriani, afghani, iracheni e sempre di più assistiamo a una variazione. Arrivano anche dal Ghana, dal Mali, dalla costa d'Avorio perché la situazione in questi paesi diventa sempre più grave. è quello che dobbiamo imparare che non sono i soccorsi in mare che incentivano le partenze dalla Libia. una lezione che a Lampedusa abbiamo fatto, oltre quella di vedere in faccia queste persone. Io dico Lampedusa non ha fatto nulla di straordinario e quasi quasi sono felice che non ci abbiano dato il Nobel. bisognerebbe semmai dare un premio Attila a chi non fa le cose che i Lampedusani hanno fatto. Applausi Noi abbiamo avuto il privilegio di guardare in faccia queste persone, di vederli scendere dai barconi. quando c'è un poeta che dice, con la saggezza dei poeti, nessun padre metterebbe il proprio figlio su quei barconi se non ritenesse il mare più sicuro della terra. Ecco, questa è una verità che i Lampedusani hanno visto negli anni con i loro occhi. Abbiamo visto arrivare famiglie che erano partite in sei e sono arrivati in tre, perché i tre figli sono caduti, non morti in mare, ma caduti dai camion che li trasportano lungo il deserto. Il viaggio sui barconi è solo la parte terminale di un viaggio tremendo, organizzato e gestito dalla criminalità, da un'organizzazione criminale molto diffusa, molto diffusa nei paesi africani, ma presente e dislocata anche nei paesi europei. Queste verità sono emerse dal processo che ha portato alla condanna a trent'anni di uno degli organizzatori del viaggio, che si è trasformato in una delle più grandi tragedie del Mediterraneo, il naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa. Ricorre quest'anno il terzo anniversario, è stata anche la prima giornata nazionale della memoria e dell'accoglienza, della memoria e dell'accoglienza, perché non dimenticare deve servire a far comprendere che l'accoglienza oggi non è essere buoni, è un dovere ed è uno strumento per costruire la pace, è un modo per aiutarli a casa loro, è la cosa più urgente che possiamo fare della cosa che è nelle nostre possibilità. Non possiamo aspettare che a Bruxelles si convincano i paesi europei a mantenere gli impegni presi con l'approvazione del piano di ricollocamento, che stabiliva un principio, quello dell'accoglienza solidale, quella della distribuzione equa dei migranti e dei profughi che arrivano sul nostro territorio. Guardate, avevano detto, dobbiamo ricollocarne in due anni, 2015 e 2016, 36 mila circa dall'Italia, 66 mila dalla Grecia. Sapete quanti ne abbiamo ricollocati dall'Italia? 1260. Sapete quanti ce ne hanno restituiti indietro? Più di 1500. Cioè noi abbiamo oggi 300 persone in più di quelle che sono sbarcate sul nostro territorio, perché l'Europa, quella ricca, quella potente, quella che decide, considera questi migranti economici non aventi diritto ad alcuna forma di protezione umanitaria, non solo, ma secondo il regolamento di Dublino che disciplina il diritto d'asilo in Europa, è il paese di primo arrivo che deve prendere in carico le persone salvate. Quindi tutte le persone che arrivano dal continente africano, ma anche quelle che arrivano dalla Libia provenendo dal Medio Oriente, dovrebbero rimanere in Italia. e per rendere tutto ciò ancora più effettivo alzano i muri lungo la frontiera dei Balcani. Ma un'altra cosa che dobbiamo smentire sono i numeri. dal 1991 ad oggi la Guardia Costiera italiana, che voglio salutare e ringraziare perché fa un lavoro enorme, a rischio della stessa vita degli uomini che si buttano in acqua a tirare su bambini, donne incinte, hanno salvato quasi circa più o meno 700 mila persone. Un po' meno della metà sono passati tutti da Lampedusa, un po' più della metà sono sbarcati dal 2014 ad oggi, perché è il 2014 che segna la crescita di questi numeri. In realtà sono vent'anni che sentiamo gli annunci della catastrofe, dell'invasione da parte di milioni di persone che dovrebbero arrivare dall'Africa. In realtà i numeri sono questi, mentre soltanto nel 2015 quasi due milioni sono entrati dai Balcani. Poi ci meravigliamo di questo, ma se in Libia, se in Siria non finisce la guerra, come vogliamo che ci siano milioni di siriani che vivono nel fango e che hanno visto crescere nel fango? I loro bambini vogliono portarli a scuola, vogliono avere una vita. Prima o poi dovevano varcare questo maledetto confine. Mi sembra che rispetto all'infantilismo, all'egoismo, dimostrato in questo momento dall'Europa, mi sembra adesso Lampedusa un gigante. In realtà ce ne stiamo rendendo conto adesso perché quello che abbiamo fatto tutti i giorni è stato quello che ciascuno di noi desidererebbe e vorrebbe che si facesse per i propri figli se fossero dispersi per il mondo. Ma un'altra cosa, e chiudo, la cosa più terribile alla quale non dobbiamo rassegnarci, che non dobbiamo smettere di denunciare, è quella che la chiusura dei confini, il regolamento di Dublino, l'impossibilità di entrare in Europa per nessuna ragione, né per chiedere asilo, né per chiedere lavoro, determina non solo sofferenza, determina morte. Dal 2013, da quel maledetto 3 ottobre 2013, con le 366 bare mostrate al mondo di fronte alle quali si sono inginocchiati il Presidente della Commissione Europea, dicendo mai più morti, ebbene sono 11.500 i morti in questi tre anni. Pensate quanti ce ne sono stati in questi vent'anni, sepolti nel silenzio, senza essere stati visti o avvistati. Dicono sono di più i morti perché c'è stato Mare Nostrum, perché i soccorsi si fanno troppo vicino alla Libia. No, sono di più i morti perché ne vediamo di più, ne contiamo di più. Quando non c'era Mare Nostrum, non c'era il dispiegamento delle navi a sud di Lampedusa, loro morivano senza essere visti. I naufragi vengono raccontati solo dai sopravvissuti. Se non ci sono sopravvissuti, nessuno saprà mai dei naufragi. Ecco, la cosa a cui io mi sono ribellata nel momento in cui sono diventata sindaco, mi sono ribellata due cose. Uno, accettare la morte di queste persone come un deterrente a non farli venire. Considerare queste persone morte come persone superflue, di cui possiamo fare a meno, di cui abbiamo deciso di fare a meno. Non sopportavo l'idea che non avessero un nome, che le loro madri, i loro figli, le loro mogli, le loro sorelle, i loro fratelli non potessero piangere su quei corpi. E non sopportavo che questo dolore, che questo lutto dovesse pesare solo su Lampedusa, che fino al 2013 è stata l'unica porta di ingresso in Europa. Dice Henri De Luca, Lampedusa però non è la porta di servizio dell'Europa. Oggi è l'ambasciata del Mediterraneo. ci siamo fatti portavoce, anche inaugurando quest'anno il Museo del dialogo e della fiducia, esponendo l'amorino dormiente di Caravaggio insieme agli oggetti dei morti, agli orologi, telefonini, le foto, le lettere, il Corano, le Bibbie, ai loro oggetti, mettendoli insieme per far riflettere, per far capire che si tratta di persone, di persone come noi, che soffrono come noi, che non sono andate via dalla loro terra con l'idea di invadere la nostra. Loro si sono sradicati dalla loro terra e lo fanno con sofferenza, lo fanno con dolore, li lasciano casa, famiglia, amori, affetti e hanno una grande forza però, quella che noi in questo momento non stiamo dimostrando verso di loro. Soprattutto questa paura, questo egoismo dilagante, questa xenofobia fa male anche ai territori come noi, alla Lampedusa, alle Lampedusa del Mediterraneo, ai territori di frontiera, che pagano il prezzo di queste politiche di chiusura. Lampedusa oggi dimostra che la logica emergenziale che produce degrado, danni, destabilizzazione sociale, della vita amministrativa, danni economici perché Lampedusa vive di turismo, noi l'abbiamo sconfitta, l'abbiamo sconfitta realizzando una grande sinergia con il Ministero, con tutte le forze preposte al soccorso e alla prima accoglienza. Oggi Lampedusa offre un modello di come si soccorrono le persone, di come vengono accolte in banchina, di come vengono curate e guardate che oggi a Lampedusa arrivano veramente le persone più bisognose di cure, ustionati, donne incinte con aborti o neonati appena partoriti. Lampedusa ha dimostrato che si può fare e se siamo stati in grado di farlo noi, che siamo così piccoli, lo possono fare tutti, lo devono fare tutti. Non solo, ma quest'anno la ragione di maggiore fierezza mia e della mia comunità è che abbiamo dimostrato con i numeri che di accoglienza non si muore. Noi quest'anno abbiamo fatto il 30% in più di presenze turistiche perché abbiamo presentato un'isola sicura, serena, un'isola che unisce alla bellezza straordinaria perché guardate che i confini, la frontiera, quelli che si devono militarizzare, quelli che devono diventare come Calais, come Ventimiglia, come Lampedusa era stata fino al 2011, sono in realtà i luoghi più belli del Mediterraneo. Abbiamo dimostrato di saper unire alla bellezza straordinaria del mare, del paesaggio, la bellezza dell'accoglienza. Accogliere è bello, si può, si deve fare. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie. 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 Grazie a tutti.